moderno e non convenzionale e quell'atteggiamento di chi guarda il mondo con gli occhi della contemporaneità che sa progettare con lungimiranza e ironia per creare ambienti dal carattere deciso Irony è la collezione super grass effetto metallo che intercetta le esigenze di chi apprezza la naturale bellezza del metallo nei suoi aspetti moderni e industrial chic le sei tinte metalliche di Irony si abbinano a diversi materiali si fondono in un mix di stili differenti per soluzioni estetiche sempre nuove chi sceglie una collezione super grass cerca la sicurezza del grass porcellanato di qualità la sua praticità e resistenza nel tempo chi progetta con Irony vuole sperimentare le ultime tendenze del design aggiungendo carattere, gusto e un pizzico di ironia agli spazi del vivere quotidiano